Sono arrivati Yema Chi? Come chi? Le unità esclusive? Asura Yeniana Yeniana Si Yeniana Si quello che è Quei nomi li si 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 Li abbiamo aspettati per mesi Perché misere finalmente ci sono Sono arrivate? Sii! Eeeh ciao a tutti ragazzi sono Vasto Darius Si e dopo questi affetti da Terzo Mondo Siamo su Brave Frontier Globale e questa settimana andremo ad evocare per Azurai e Niala La mamma di Niami e il papà di Corzan Abbiamo aspettato queste unità da veramente tantissimo tempo e finalmente Troppo tempo Finalmente siamo di nuovo con Gabri A evocare queste unità Già Gabri mi ha portato fortuna al video scorso Purtroppo Purtroppo ti ho portato fortuna Sia Niami che Alla non evocati E Alla non alla fine Ce lo farò Ce lo farò E come vedete qua Corzan E come vedete qua Corzan e Niami in squadra Allora Dopo e dopo scusate E dopo le evocazioni in quello RPG europeo si passa a Porta Globale Io ho soltanto 20 gemme e lui ha tipo 11 evocazioni ma No io ho 46 gemme e 2 summon Bene allora Io direi di farti partire a te Parto io Perché ho più gemme Vai 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 Ricordiamo che ho l'iPhone quindi Deve per forza mettere vicino Ah cioè si non ho preparato Comunque anche questa volta ci sarà il Il retap per 2 per 3 per 4 No No Sto parlando Anche questa volta ci sarà il retap per 2 per 3 per 4 ogni volta che andiamo a evocare Non tagliarmi Gabri che sto spiegando Oh come si è permaloso Comincia a evocare E ogni volta che evochiamo si si aumenta la probabilità Io spero di beccarne almeno uno dei due In queste 4 summon Vai Gabri Ovviamente parte lui perchè summon di me così vi durano un attimo di più Che ritengo summon ticket Va a utilizzare summon ticket Attenzione Ah vi ricordo che se Partiamo giocando a Porta d'Oro Allora aspetta Minimo 5 stelle Vi dico solamente che se becchiamo la Porta nera è per forza Azurai perchè è un Omni Ah è il primo Omni In realtà è il primo Omni dopo Azuramico Esatto Siamo pronti? Vai Ti becchi subito Niala Che ne sai Hai parlato Ah lui è buono Non ce l'ho So che è buono Il suo nome è Zeal Tipo Tenema Breaker Facciamolo vedere Intanto io vado a vedere nella wiki Per vedere eventuali statistiche e cose varie Vai Ma io voglio vedere dopo Quindi la facciamo insieme? Si la facciamo insieme Ok Tu sei già dentro a evocare giusto? Devo cliccare summon Ok va bene Ragazzi speriamo ragazzi Sei pronto? 3 2 1 Seconda summon Io cliccare Prima per lui Quindi se becco porta nera Gabri Ah che palle Un'altra porta d'oro Ok mi sa che neanche io Si rompe per forza arcobaleno Arcobaleno Attenzione Tu percobaleno E via Vai Vediamo 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 Oh Oh Ah questo non ce l'ho Aaaaa Bestie Te hai preso la La mica di selena Un mica o più chi era? Si una tizia Si chiama Lun Ah io bestie breaker Oracolo Oracolo Peccato che non puoi temerti Dai vai a farla subito la seconda summon La terza summon Subito Siamo vogliosi Siamo a un retap Per 4 Io sono già per 4 Vai 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 Per 5 Vai avanti con il 3 Abbiamo finito il summon ticket Quindi adesso usiamo le gemme Summon Comunque ragazzi Vi chiedo voi che se state giocando a Brave Globale Che cosa avete evocato in questo retap Si avevate gemme ma sicuramente avevate gemme perchè Annaggia a te Dai Perchè il normale vi regala gemme che è un'assurdita Ehm un altro nuovo Ah questo qua è il drago di te Di te No è di tipo luce Di luce No terra 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 Belardo Oracolo Un altro oracolo schifoso Vai 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 Non li hanno ancora bannati sti oracoli di merda Vabbè ma tanto oracolo non diminuisce più la vita eh Non mi interessa Vai Non ti piace la parola oracolo Fa schifo Vai Un'altra summon Tu quanto sei per 5 Sarà per 5 Ok io sono per 3 Dai E aspetta aspetta fammi arrivare 3 2 Ah hai già cliccato Sono già partito Io sono una faina Aspetta aspetta Dammi tempo Ah io guardo porta rossa Pronti Tac Break E dai Sei pronto? 3 2 1 Vediamo vediamo Ed è? Ed è? Ah ancora lui Ho trovato quello di No Che figata Ma sono tutti e due nella stessa posizione Tu hai trovato Zarafangar Sì Io ho trovato Prendiamoci lui Che ce l'ho già Oh Bel Z Anima Lui aumenta i cristalli vero? Lui aumenta i cristalli con critical Lui è basato su critical Ma guarda che figa No lui è bello Molto bello Molto bello Siamo già per sei ragazzi No tu devi trovare per forza Che cazzo con un per sei? Io ho una sfiga Porca miseria E questa volta non ci sbagliamo Dopo quattro summon avrete un hangy fin in regalo È vero Ho fatto quattro evocazioni adesso Tu hai già fatto quattro evocazioni Sì Vai Io alla fine delle quattro summon andrò a vedere quale hangy fa Sì Lo vedremo tutti e due Attenzione Vedrai un bel po' Un'altra summon Dai 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 Oh Attenzione Può rompersi Può rompersi Può rompersi Della black d'ora Dai vai vai Oh Micchia Attenzione Attenzione Eh ma no per forza lui No magari è un altro omni È omni di giapponese Oh già è vero Sicuramente è un omni Sicuramente è un omni Sicuramente è un omni Quindi chi è che ti può venire? Quello di tuono? Quello di tuono è quella d'acqua O sennò quello è esclusivo Ci sono solo loro due di omni Per ora Un po' che però c'è un'impossibilità del 35% No dai azzurai No dai azzurai per forza Pronti? 3 2 1 Oh Oh Qua ci vuole un muschetto Oh Grandissimo Io lo voglio break Ma non la do Grandissimo Attenzione 95 Samu Com'è? Lord Ah vabbè Ah vabbè Comunque è buono Guardate che figo è Oh Qua vederà Vedere da Mio Dio Che cazzo Magari è la mamma di Niami Se cosa ne sai Subito molti c***o Va Ebbene Va Magari è la mamma di Niami E non ne evochi più Ah È il tipo degli status Non ce l'avevo però È quello che suona il violino con i capelli da Medusa Guardiano Sì in teoria va bene Sì dai ci sta ci sta Uno nuovo ancora Almeno un po' di data da fare volvere La faccio io allora? Ora Da questi Mentre io Tenterò di fare qualcosa Oh merda Che palle ragazzi C'è stato un problema Si è spento il pc E quindi Non avete potuto vedere il mio schermo Ma solamente la webcam Io Avrò messo delle immagini Si avrò messo delle immagini Avrò messo il nostro video che è partito Comunque alla prima evocazione ho trovato Bestie Come avete visto E alla seconda ho trovato Bell Zeft Anima E adesso andiamo a fare le ultime due evocazioni che mi rimangono Quindi adesso Darius T Ah lui ecco che hai trovato loro due Adesso Darius T Allora Farò un'evocazione Farò un'evocazione E poi la facciamo insieme Allora Dai Io ricordo che I cabri ha trovato Piano Se no si sente troppo Con il x5 ha trovato Azurai Già sapete che questa si può spaccare Ci sono tre Calma Ci sono tre Calma In giro Due giapponesi Un esclusivo Attenzione Due normali Sì due giapponesi Un esclusivo Basta Speriamo che sia Attenzione Attenzione Ho visto il fuoco E ho detto Non ce ne sono tre giapponesi Ma questo è il primo È il primo omni Già vero il primo omni Lui mette la barriera di fuoco 30% boost No è buono lui Ok lui è prima di Ah Nega gli sta Oh che bello Perfetto Mettelo subito come leader Così ti serve Allora Ci manca l'ultima vocazione E non Per questo Non posso trovare O Azurai O Niala A questo punto Non saprei chi volere Sai Magari Azurai è figo Però anche Niala Niala Vediamo l'ultima vocazione Vediamo se Questo problema Ci porta una mannata al cielo Speriamo Odio Lucius Ti sei caduto Vai E tu sei pro 3 2 1 Sei giusto Ok Oh 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 Lui ha già a Azurai Io no 3 2 1 Cazzo No Niala No io Aaron Niente Io Quello schifo Quello schifo Niente Le ultime vocazioni brutte Però Però dai Guarda il lato positivo Ho trovato un Omni Ho trovato un Omni Almeno quello Non è Azurai Ma Sai chi fa i revolver adesso Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Spero che vi siete divertiti con tutte le scenette comic che Ci siamo Barra ha inventato Beh Con la povertà che abbiamo Ci siamo arrangiati Apprezzate lo sforzo Mettete un bel mi piace E mettete un bel mi piace Vieni un pochino indietro Anche al nostro Vecchio video Che lo trovate Qui Esatto No, no, no Non sotto in descrizione Ma qui Non riesco Con l'effetto lì Non riesco Quindi Ragazzi Spero vi siete divertiti Lasciate un bel mi piace E iscrivetevi al canale E spero che i video Non si è adorato troppo Scrivetevi voi nei commenti Che cosa avete trovato Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi